Comunque, via! Ah, questo è che, veloce poi, questa. Eh, senti? Minchia. Eh, non parli, è un momento catartico! Ma io non posso correre, capito? Sto messo poco male. Eccolo! Dio che fa! Oh! Puttana addirittura! Bello! Eh, vabbè, ma questa va... Sì, vabbè, ma vado più veloce... Dopodomani, proprio. Oh, gli ho fatto i dribbling! Incredibile! Apri! Sì, no, un po' più lenta la porta, mi raccomando. Ma sta qua... Però perché lui non corre? Cioè, io se fossi stato... Innamorato! Io se fossi stato l'inseguitore... No. Eh sì, e vabbè. Ciao! Fanculo! Ma che bella cosa! Volete tutte lasciarmi? Sì! Ciao! Io me ne vado, perché... Ah, camminiamo un po' nella... Sì, vabbè, ma questo... Comunque, anche se non è stiamo per finire, perché non... Non c'è... Non è che muo mi fai tutto gioco così. Eh, dai. Allora. Questa era l'ascensore. Un po' più veloce, eh, mi raccomando. Ti serve... No, vabbè, no. No, la chiave no. Ah, vedi, emergency evacuation. Noi dove siamo... Ecco, c'è la stellina, dice... You are here, no? Do not use elevator. Don't cry. Don't cry nelle cose. Non piangere. Administration block. È quello verde. E dove sta... Eh, noi dobbiamo... Sì, vabbè. No, che cazzo ho fatto? Ok. Andiamo di qua. Trova la chiave per accedere all'ala maschile. Una parola. Non c'ho... Non c'ho batterie! Porca miseria. Non posso usare il flash. È... È... È un par di palle. È un grave problema, questo. Com'è possibile che mi so finire le batterie? Buttiamoci di sotto. Eh, ecco, va. Meno male ce n'è una. E raccoglie. Oh. Ok. Certo, però, camminare così... È una rottura di... Guarda come... Lo vedi? Se la sta tenendo su un braccio, tipo. Che cos'è quella? La batteria? Sì, dai, è a posto. Ora ci stiamo rifacendo. Allora, sempre a due all'ora. Dobbiamo trovare una chiave. Certo, la cucina non è proprio il posto ideale, eh. Andiamo di qua. Ma... Eh... Ha fatto... Sai, io dico, le belle fini, no? Queste sono donne. Credo. Cioè, ma chi è che spende tutto sto tempo? Ma vuoi vedere che è quello là? Scappiamo. Non coso dal basket. Sì, non coso dal basket. Non c'è. No, no! Lo sento. Non so dove, ma lo sento. Cioè, scusa, eh. No, un abito da sposa? No, ma a parte quello, ma la chiave me la danno così, eh. Per me c'è sta qualcosa che puzza. Tu... Io non mi giro. Cioè, però comunque sia... Io non lo... Tu non senti... Sposta! Sposta! Sposta quel bus! Non so da dove... Sì, ma mi raccomando, vagli addosso, no? Beh? No! No, no, no. E vabbè, eh, vabbè, eh. E c'ha ragione, eh. Io ti do pienamente ragione. Ah, che carino, pure la scarpetta sopra, come per dimori merda, no? La scarpetta vuol fare. La scarpetta, no. Secondo me... Ce la possiamo fare, eh. Ma di che? Ce la dobbiamo fare. Allora, rieccoci. Stavolta ce la facciamo. Cioè, ci sta proprio... Allora, stavolta lui è arrivato a qua. Quindi dobbiamo fargli il dribbling. Eccolo. E' minaccioso. E fugge. E fugge. Non ne è freddo. Questo stavolta se mi becca da dietro, mi uccide subito, eh. E laggiù dobbiamo andare. Vai. Ah! Ah! Lo sento, sta proprio dietro. Certo è proprio lento questo, eh. Un bug's bug. Ah. Via, via, via da qua, subito. Salta. Mamma mia, Matteo. Allora, io credo che ormai siamo proprio arrivati in dirittura d'arrivo, eh. Cioè, ce la stiamo... Stiamo riuscendo a finire Outlast. Ma eccolo, 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 eccolo. Vai. Mo, via. No, vabbè. No, vabbè. Cioè, scusa. Ah, mo ci fa fare la stessa fine di quelle. Ah. Interessante. Dice, era ora. Non ti resta. A posto. Eh. No. Sei più pesante di quanto sembri. Ah, siamo tipo dei ciccioni. Salve. Salve. Ammazza, siamo un po' ciccioni comunque, se abbiamo sfondato. Devi comportarti. Muovi. Ma che è successo? Com'ha fatto a finire là? Ma vedi, sei infilzata la mia cosa. Eh, ma com'ha fatto a finire... Ecco. Sai che c'è? Io queste cose non me le chiedo. Meglio non chiederselo. Oh, sei morto, te. Ma quello con la motosega? Io spero non ritorni, perché ormai c'è. Vabbè, è la fine che dovevi fare. Adesso dobbiamo veramente scappare da qua, perché ormai siamo zoppicanti, morenti, ci hanno quasi tagliato il pene. Cioè, nel senso, ci hanno fatto un po' di cose, eh. E allora, via da qua. Dai. Oh, vedi, sta iniziando un po' a riprendersi. Vai. Un incendio. Vabbè, ci fa piacere. Siamo con... Ah, no, vabbè, era una chiesa, non ci fa proprio piacere, però vabbè. Vabbè? Cos'è? Vuoi controllare il battito? Io sta scena l'ho già vista. Forse è nell'Outlast, primo sarà. Vabbè, andiamoci. Ok. Da chi l'ho visto? E da chi? Federico, abbiamo finito. Dici? Sì. Io sto sentendo degli spari, comunque. Abbiamo finito. Siamo quasi in diritto da qui. Adesso te lo dovete trovare in uscita. A trovarla? Cosa è che dovresti uscire da qualche flessio? Adesso vado a fare. E ora può servire, come so. Oh, dove? Rinforzi, abbiamo bisogno d'aiuto. Resistete. No, spero, io sono arrivato di qua, quindi di qua. Amore, inizia di nuovo a correre, guarda. Ah, vedi, è ripresa a correre. Bravo, bravo. Beh, oh. Cioè, è giorno, eh. Sento una musica... Sì, allora il video che ho visto io. Ok, sì, sì, sì. Oh, io sento la musica tranquilla, eh. Lo ricordo, lo ricordo. Adesso non voglio spoilerare al video. Ah, aspetta, questo sì, l'ho visto pure dal... Ho visto io solo un video di Outlast del primo, quindi... Questa è la main, questo è l'ingresso, quindi... Tecnicamente... Potremmo pure prenderci l'ascensore, eh, però... Elevator. Vabbè, dai, continuo, su. Eh? Ecco. È aperta, apposta. Adesso dovrei una macchina. Signor Parker, come fa a essere... No. Mi alzi, ma tutto cazzo. No, vabbè. Adesso cerco te. No, vabbè. Però strano... Eh, che sch... Ma che... Che schifo. Stasera abbacchio, ragazzi. Stasera. Allora, io adesso credo che se... A meno che non torna quello con la motosega... No, no, ti devi sbrigare. Dice. Ti devi sbrigare. Vai, alzati, dai, dai, dai. Sì, vabbè, però te credo questo... Gli hanno tagliato quasi il coso e... E scava... Cioè, qua. L'hanno pure cliccato... No, l'hanno fissato, qua. Eh. Ecco, questa è la macchina. Vai, 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 vai. Oh. Il giorno. Vattene a quel paese... Posto brutto. Un manicomio dovrebbe essere. Un manicomio. Un manicomio abbandonato. Finalmente ci siamo. Sento proprio la radura. La macchina. Vai, vai. Questo finisce su YouTube, eh? Per me non ha ancora finito. Vai, il cancello è tipo semirotto. C'è una cosa nera là. Quello è il fantasma. Quello è il fantasma. Non poteva uscire. Non poteva finire. Vedi le foglie. Eh? Vedi le foglie come si muovono. Eh, lo so. Ma questo non so io. È uno. Fregate. No. Dai. Esci. Sarà riuscita a scappare? Ma di che finisce così, eh? Ah, no. No. Ah, vedi? Siamo vivi. Ci abbiamo il video, vedi? Viral leaks. Malvagie paranoici. Tutti quelli a cui tiene. Sua moglie. I suoi figli. La sua PlayStation 4. 5. Danneggerà irreparabilmente la compagnia. E te credo. Una volta che la chierà su quel tasto, la sua vita sarà finita. Eh. Ma scusa, non sono morti tutti là, quindi. Ma sì. E tanto è morto pure il proprietario, quindi. Sei sicuro di fare questa cosa? Ma certo. Via, carica. Eh. Questa c'è una fibra ottica per caricare così velocemente. Ah, ed è finito. Abbiamo finito Outlast Whistleblower. Ce l'abbiamo fatta. È stata un'impresona che tipo ci ha fatto sudare. Le 7 capce. Io, perché venturi ha fatto una sola cosa e l'ha fatta pure male. Quindi. E non voglio ricommentare quello schifo che hai fatto. Comunque. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non fa paura. Non fa... Cioè, ti fa giusto impressione quei momenti dove magari apri la porta e c'era il tizio. O magari quando c'è quello dietro alle costole. Però. Noi ce l'abbiamo fatta. Noi siamo stati più forti di Outlast. E quindi. Da me. E da Lambo. Ci vediamo al prossimo video. Come sempre. Dritto per dritto.